Anche questa settimana è con noi Beppe Viale, responsabile tecnico dell'Atletica Roata Chiusani. Ciao Beppe, bentrovato come sempre. Un saluto a tutti voi. Iniziamo subito parlando di Rossana, dove siete andati sabato. Esatto, sabato 30, eravamo alla 30 edizione del Trofeo Concaverte. A livello maschile ha vinto Mania sulla Bagione della Bala Baraita. Bene il nostro Andrea Barale, quinto saluto, ma anche molto bene Enrico Imar, settimo, e vince la sua categoria. Come pure Davide Treve, secondo, e Chiara Sarale anche nelle femmine della sua categoria, dove ha vinto all'Arnauto del Dragonero. Domenica invece siete stati a Torino per la mezza di Santander. Esatto, avevamo anche qualche atleta in questa gara, dove Davide Viale, il nostro triatleta, ha fatto il personale sulla mezza maratona, portandola a 1.16.22. Mentre, altro risultato molto importante, lo ha ottenuto Vincenzo Maio, primo della categoria junior. E poi Alice Minetti ha ottenuto degli ottimi risultati. Sì, sempre domenica in Liguria, la mare e montagna, trial, lei ha fatto quello corto, si fa per dire, solo 20 km, che l'ha chiuso in due ore, vincendo ovviamente la gara. Per quanto riguarda invece le prossime gare, vuoi spendere qualche parola per i campionati provinciali di Staffetta, che si terranno sabato prossimo a Cuneo? Esatto, l'organizzazione dell'Atletica Rotetiusani, con la produzione della FIDA e con il patrocino del Comune di Cuneo e dell'Unione Veterane dello Sport di Cuneo, Sessione Luigi Pellin. Come hai detto giustamente i campionati provinciali di Staffetta e di tutte le categorie, per cui partiamo dai ragazzi fino anche ai più grandi. Le gare inizieranno alle 14.45, sono in programma veramente tante gare, lo scorso anno abbiamo sfiorato i 600 atleti gara, per cui vuol dire quasi tutti fanno due gare, oltre 300 atleti gara. Lo speriamo anche quest'anno di avere molta gente, ma sicuramente ci saranno, lo speriamo anche nel tempo, perché pare che la settimana cambi, speriamo che sia clemente con un nuovo sabato. Assolutamente, il tempo in questa stagione cambia ma ricambia, quindi non preoccuparti Beppe, la prossima settimana ci dirai come sono andati questi campionati provinciali di Staffetta che, ripeto, si disputeranno sabato prossimo a Cuneo. Grazie per essere stato con noi anche questa settimana, a presto. A risentirci. Grazie a tutti.